Abbiamo parlato di una battaglia, battaglia è stata. Battaglia è stata, è stata una battaglia due volte, nel senso che poi alla fine ci siamo passati, buttavamo questi palloni e c'è stato da soffrire, ma come giusto che sia. Quando poi non chiudere le partite, mentre nel primo tempo io penso che il Varese ha fatto un'ottima gara, faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo cercato di sfondare a destra e a sinistra, abbiamo cercato poi varie combinazioni, non abbiamo fatto gol, perché il calcio è la terrosia e poi abbiamo fatto gol, pronti via subito nel secondo tempo e ci è mancata la giocata per andare sul 2-0, quella di Liberati perché lì è un 3 contro 2, il gestito meglio si poteva poi andare a chiudere la partita o sennò eventualmente fare il 2-0. Un'unnesima prova di grande personalità, di grande compattezza, di grande sacrificio, però adesso non lo dico più perché ormai l'identità della squadra è questa, perché se poi nelle amichevole estive dai questo tipo di impressione in Coppa Italia e dopo la prima fase di campionato probabilmente sono cavoli loro, usiamo questo termine, perché poi la gente, il tifoso pretende questo tipo di squadra, la società pretende questo tipo di atteggiamento, è allenatore ancora di più, però ci lavoriamo tutti i giorni su questo, qualcuno di voi è presente sempre all'allenamento, durante la settimana, 2-3 giorni vedete benissimo che questa è una squadra che nasce così, nasce con questo tipo di caratteristiche e sicuramente dobbiamo essere bravi a continuare, per questo tipo di atteggiamento. Grazie. Grazie. Grazie.